Sono contento innanzitutto perché i ragazzi hanno dato una bella risposta, hanno chiuso quella che era stata una rincorsa magnifica che ha iniziato l'anno scorso il 6 gennaio e che si è chiusa stasera tutti insieme con i tifosi che hanno dato una grossa mano a questi ragazzi, con la società che ha fatto grandi sforzi per allestire una scuola del genere, al presidente che credo meriti questa dedica di vittoria, visto il periodo sicuramente non felice e nonostante questo è sempre molto vicino alla squadra. È stato bello raggiungere questo traguardo, questo regalo che i ragazzi hanno fatto a me, hanno fatto alla società, hanno fatto a tutti i tifosi del Milan, quindi credo che meritano ampiamente le logi da parte di tutti. È un gruppo di ragazzi che ha dei valori, un gruppo di ragazzi che deve migliorare, un gruppo di ragazzi giovani che ogni tanto sbandano e vanno rimessi un attimino in carreggiata.